Barbie Extra numero 6, finalmente ci siamo! Andiamo a vederla? Sì! Quindi iniziamo! Eccoci qua oggi con la Barbie Extra numero 6 che mi è stata regalata da voi. So già che alcune cose mi piaceranno molto, altre purtroppo non mi piaceranno per niente. Ma, ma, cominciamo dalla scatola, che è ovviamente la stessa identica scatola di tutte le Barbie Extra. Non cambia assolutamente nulla, se non ovviamente il simbolo e l'artwork. Possiamo come sempre vedere la bambola quasi completamente all'interno, o meglio la vediamo completamente ma con davanti il logo, quindi diciamo quasi. Qui c'è appunto il logo Barbie Extra dove la scritta Extra è tutta olografica. Qui in alto c'è il suo simbolo, un cuoricino con dentro i glitter che se andiamo a muoverlo vediamo che i glitter si spostano. Si può anche rimuovere per essere conservato. Qui troviamo ovviamente il suo numero, il 6. E qui troviamo il suo artwork che ragazzi, oh mio Dio, è di una bruttezza rara. È veramente nefando. Non ho mai visto un artwork più brutto della bambola. In questo caso Mattel ci è riuscito. Guardate che blush o sceno che ha sulle guance, guardate che faccia o scena che ha. È terribile. Su un lato della scatola troviamo il suo animaletto. Qui la scritta Barbie Extra e qui in alto il suo simbolo. Sull'altro lato di nuovo il logo Barbie Extra e di nuovo l'artwork orrendo che è veramente terribile. Brutta, brutta, brutta. Il retro invece è anche questo uguale a quello di tutte le altre Barbie Extra dove qui nella parte superiore c'è di nuovo il logo Barbie Extra. Tutto intorno all'artwork della nostra bambola ci fanno vedere tutti gli accessori che arrivano assieme a lei anche da questa parte. Ci mostrano veramente tutto. Qui al centro c'è l'orrendo artwork tutto intero. E boh, più lo guardo e più mi fa schifo. Da questa parte il solito cerchiolino delle 15 sorprese e che include un animaletto. E poi qui le altre uscite assieme a lei che ho praticamente tutte. Anzi no, mi manca l'ultima, la Afro. Che non so, sto aspettando di vedere se trovo una super offerta per recuperarla perché è carina ma non troppo. Se la recupererò ovviamente arriverà la sua recensione. Nella parte finale le solite informazioni inutilissime che non ci interessano. Quindi andiamo subito a deboxarla. Una volta fuori dal box il suo viso è, non lo so, non mi piace molto. Perché hanno fatto questa fronte altissima, questo sguardo un po' perso nel vuoto. Non mi piace, però andiamo a vederlo. E soprattutto poi vi spiegherò cosa mi piace tantissimo invece di questa bambola. Il suo mold è il classico mold di Barbie con la bocca chiusa. I suoi occhi sono completamente azzurri. Sopra gli occhi ha tante ciglia e un pochino di ombretto marrone sfumato. Come trucco niente di speciale. Le sue sopracciglia sono molto definite, castane, ma con tantissimi pelettini disegnati. Ultimamente va molto di moda disegnare tutti questi pelettini all'interno delle sopracciglia e io ne sono contento. Sulle guance troviamo un leggero velo di blush e invece sulle labbra indossa un rossetto fucsia completamente opaco. Per il resto non c'è nient'altro da dire se non che forse è leggermente strabica e appunto il suo viso a me non piace. Passando a vedere i suoi capelli vediamo che sono tutti completamente lilla. Con la parte qui davanti raccolta in questa codina qui in alto e tutti gli altri invece sono completamente sciolti. Come vedete sono parecchio lunghi perché arrivano fino alle sue ginocchia e hanno tutto questo effetto beach waves che è diciamo come se fosse un frisè un pochino più largo. Se andiamo a toccarli la fibra purtroppo è una fibra non bellissima perché Mattel ormai nelle bambole con i capelli colorati utilizza sempre questa fibra molto rigida molto stopposa ma sono comunque meglio di quella con i capelli azzurri che abbiamo visto nella scorsa recensione. Quella era veramente terrificante. Sulle orecchie indossa invece questi orecchini che sono fatti a cerchio con questa specie di finte perle lungo tutto il cerchio. Sono semplicemente bianchi e non hanno nulla di speciale ma dai ci stanno. Al collo vediamo già che indossa anche questa collana bianca che richiama i suoi orecchini infatti ci sono anche qui queste specie di perle stampate in qualcosa del genere. E devo dire che la collana ha anche un riflesso perlato a differenza degli orecchini. Ma io direi di passare a vedere quello che indossa perché è la cosa che mi fa impazzire di questa bambola. Fin dalla prima volta che l'ho vista mi sono innamorato del suo vestito. Perché nella parte superiore indossa questa giacchettina completamente rosa con questa fantasia di orsetti rosa un po' più chiari sulla stoffa diciamo finto jeans e con queste maniche super pelose. Ma ragazzi è fatta veramente bene. Non me lo aspettavo ma è fatta bene. Perché qui sul seno su entrambi i seni abbiamo una finta taschina con anche queste due pieghette che scendono lungo tutta la giacca e sono state cucite per dare questo effetto 3d. Ci sono tutti i finti bottoncini applicati. Anche dall'altra parte vediamo proprio qui lo stesso dettaglio cucito benissimo con lo stesso bottoncino. Ho tolto un attimo la collana per vederla meglio perché abbiamo un altro bottoncino anche qui sopra e poi c'è tutto questo colletto. Già questa parte è fatta molto bene per essere una Barbie extra. Ma in più ci sono anche queste maniche che sono tutte di questo pelo morbidissimo che poi non è neanche un vero pelo perché non lo so se vedete sembrano quasi dei rastini, dei micro rasta. Tutto completamente rosa ma veramente morbidissimo con cui in fondo anche il polsino come chiusura della manica e sono entrambi ovviamente identici. Questa giacca per me è fantastica forse una delle migliori tra tutte le Barbie extra. E la cosa che mi piace moltissimo è che in questo caso non hanno fatto una cozzaglia di cose strane e particolari ma hanno messo i pantaloni abbinati alla giacchetta. Infatti come vedete sono fatti dello stesso tessuto con le tasche vere, tutte le cuciture al posto giusto, qui anche questo finto bottoncino in cintura. E sono appunto abbinate alla giacca che per me è una cosa fantastica visto che solitamente in queste Barbie fanno un po' tutto a caso. Ma ovviamente non poteva essere tutto bello infatti se noi andiamo a togliere la giacca vediamo che sotto indossa questa canotta semplicemente solamente bianca di una semplicità disarmante. Con le spalline di nastrino di raso bianco e qui un fiocchettino di raso bianco applicato. Lascia scoperta leggermente la pancia ma ecco questo è quello che troviamo meglio con la giacca vero? Sì direi di sì. Prima le ho rimosso questa collana per guardare meglio la giacca ma adesso ragazzi non posso che parlarvi anche di questa collana. Perché di base è una semplicissima catena di plastica colorata con questo argento metallizzato ma su cui hanno applicato 5 charms, 5 pendaglietti. E anche i pendaglietti sono fatti benissimo perché se vedete penzolano proprio tutti, sono tutti removibili e sono tutti appunto penzolanti realmente. E ci sono due stelline gialle molto semplici ma poi c'è qui un arcobaleno colorato benissimo per essere così piccolo. Questo orsetto azzurro con il faccino colorato e in più c'è questo gigantesco pendaglio qui al centro con scritto girls rule. Fantastico, bellissimo, metallizzato io non lo so. Su questa bambola ci sono dei dettagli che vorrei vedere su tutte le barbi. Sul suo braccio sinistro indossa questo bracciale sempre argentato effetto metallizzato. Carino, molto semplice, diciamo che richiama un pochino la sua collana e i suoi orecchini anche se è di un altro colore. Ed è sicuramente abbinato a questo anello. Questo anello che prende tutte e quattro le dita, anche questo tutto argento metallizzato e con stampata la scritta Barbie. Bellissimo, mi piace un sacco, come vedete si infila proprio su tutte le sue dita ma è comunque veramente molto bello. Le sue scarpe non mi fanno impazzire, sono delle scarpe alte fino sopra la caviglia, dello stesso identico bianco degli orecchini e della collana che riprendono quell'effetto perle che abbiamo visto più o meno su tutti i suoi accessori. Hanno il tacco alto e sono di gomma morbida perché non sono di plastica rigida ma come vedete sono proprio di gomma morbida. Sono carine, non hanno niente di troppo speciale, ci possono stare, non mi fanno esultare però ci stanno. Ma come per tutte le Barbie extra anche con lei arrivano degli accessori e il primo è questa borsettina qui che mi sono stupito del fatto che abbia la tracolla che si muove, non me lo aspettavo. È molto carina soprattutto perché è tutta colorata con questo bianco perlato, riprende sempre l'idea delle perle di tutta questa bambola e quindi ci sta. E anche come vedete è aperta, ci possiamo inserire qualcosa, non so cosa ma qualcosa magari possiamo mettercelo. Poi arriva con questo gelatino che ha questa maniglia per essere tenuto in mano, è un pezzo di plastica semplicemente verde a cui hanno colorato questo pezzettino rosa sopra e il cono sotto di questo giallo un po' strano. Arriva con proprio questo in mano ma sicuramente le starà meglio la borsetta. Poi ci sono questi occhiali da sole a forma di cuore con il contorno delle lenti azzurre, anche questi molto semplici, poi vedremo come le stanno addosso. E per ultimo ovviamente il suo animaletto che in questo caso è questo cagnolino con la faccia arrabbiata ma che fa l'occhiolino e non lo so, non mi piace, sapete che non apprezzo particolarmente questi animaletti. L'unica cosa che un pochino apprezzo è il cappellino perché sembra veramente fatto di lana, tutto azzurro con anche le orecchiette qui sopra e anche il cappellino ha sopra stampata una faccina e possiamo anche rimuoverlo per vedere sotto le sue orecchiette e farlo sembrare forse ancora più cattivo. Quindi ragazzi questa era la Barbie numero 6 con tutto quello che arriva assieme a lei. Come avete visto sono andato abbastanza spedito, abbastanza veloce perché non c'era proprio tanto da vedere. Sicuramente alcune cose meritano di più tipo la sua collana e la sua giacca ovviamente. Altre cose meritano un pochino di meno tipo i suoi capelli e la sua canota bianca. Devo dirvi che questa bambola per quanto il suo viso non mi piaccia è sicuramente meglio dell'artwork perché ve l'ho detto quell'artwork è terrificante ma ha uno stile che veramente mi fa impazzire. Tutto questo rosa usato in questo modo, quindi due tonalità di rosa che poi si riprendono sulle maniche nella fantasia dell'outfit con questi dettagli, alcuni semplici, alcuni un po' più lavorati abbinati all'illa dei capelli, mi piace veramente da morire. Non so cosa dirvi, non posso dire nient'altro. Questo look lo trovo quasi perfetto perché sì, è vero, cambierei la canota sotto e le scarpe ma il completo giacca e pantaloncino è fantastico. È uno dei look più belli, secondo il mio gusto, che ho visto negli ultimi anni su una Barbie. Detto questo, adesso però voglio sapere voi cosa ne pensate. Io ovviamente ve la consiglio, vi lascio qui sotto il link Amazon se volete acquistarla. Se non sbaglio, in questi giorni le extra sono pure in sconto. Non mi ricordo se tutte o solo alcune ma andate qui sotto e controllate. Tanto vi basta solamente cliccare qui. Mentre aspetto i vostri commenti, aspetto anche un vostro like per farmi sapere se questo video vi è piaciuto oppure no. Ovviamente spero che arrivino tanti like perché sennò vuol dire che il video vi ha fatto cagare. Ma detto questo, come sempre ovviamente sono anche su Instagram e TikTok. Io ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.